Le istituzioni si fanno carico di aiutare le imprese colpite dalla pandemia. Tra queste c'è anche l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e lo stesso Comune di Faenza che in questi giorni hanno dato via a una nuova tranche di aiuti, aperti anche alle partite IVA con circa 250.000 euro di stanziamento. In totale, gli aiuti a fondo perduto ad aziende, mondo del commercio, associazioni e adesso anche professionisti arrivano a 2 milioni di euro. È una seconda parte del progetto che avevamo in mente. Facciamo il primo ristoro a tutti i locali che erano stati colpiti direttamente dal lockdown di novembre. Poi ci siamo resi conto che comunque anche tante realtà che non erano state chiuse, non avevano visto dimezzati i propri orari, comunque erano indirettamente state colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia. Quindi ci è sembrato giusto provare a dare un contributo, un piccolo aiuto anche a tutte le attività commerciali, piccole imprese che appunto comunque sono viste penalizzate da questa situazione. E quindi è rivolto veramente a tutte le partitive e imprese che però hanno avuto un calo di fatturato. Quindi rispetto all'altro bando che appunto era costruito per dare un contributo a tutti quelli che comunque erano stati chiusi e avevano avuto una riduzione di orari, in questo caso occorre comunque la dichiarazione dell'autocertificazione che vi sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 30%. La somma destinata per adesso è attorno ai 230 mila euro.